Sono stati ufficializzati dalla Presidente del Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, Lina Urso Gucciardino, i nomi degli insigniti dei riconoscimenti speciali nell'ambito della ventesima edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, rivolto a donne e uomini di Sicilia che si sono particolarmente distinti nel loro settore lavorativo. I premiati dell'edizione 2018 sono Giuseppe Crapanzano, operatore socioculturale di Favara, Raimondo Moncada, giornalista e scrittore, Salvatore Rizzuti, scultore, Francesco Novara, fotografo, Salvatore Nocera, medico, poeta, attore, Daniel Russello, artista, designer di caschi, di piloti, di moto e auto da corsa, Stefano Castronovo, campione italiano di moto d'acqua, Mariangela Longo, direttrice, istituto superiore di studi musicali, Toscanini di Ribera, Giuseppe Taibbi, presidente regionale FAI Sicilia, i Diapason, gruppo musicale Etno Folk e l'unità operativa hospice dell'ospedale di Agrigento per il Mantello. La cerimonia di consegna del Premio Buttitta è in programma sabato 8 dicembre a Favara al Castello Chiaramonte alle ore 16.30. E non mancano le iniziative collaterali già da oggi. Ascoltiamo in proposito la stessa Lina Urso Gucciardino. Sì, iniziamo infatti la ventesima edizione del Premio Buttitta che come ogni anno si svolgerà nell'arco di 15 giorni proprio perché i temi che portiamo avanti sono tanti, tutti inerenti alla nostra sicilianità. È una manifestazione che appunto perché i temi sono tanti e tutti di una certa valenza è necessario che ci sia una mole di lavoro organizzativo non indifferente e nello stesso tempo il coinvolgimento di tante realtà, di tante persone e prima di tutti le istituzioni e le scuole. Perché noi con questa manifestazione vogliamo ingidere in maniera concreta diciamo sul nostro tessuto sociale e quindi è necessario che ci sia una sinergia di forze. La manifestazione inizia oggi, 28 novembre, appunto con due incontri particolari. Abbiamo il gemellaggio con il comune di Comitini perché questo già lo facciamo da diversi anni in quanto vogliamo ambleare il centro di interesse sulla variegata cultura siciliana e l'ingontro con due artisti, uno scultore e un, diciamo, fotografo. Abbiamo Salvatore Rizzuti e Francesco Novara. Ecco, l'arte è importante, come sono importanti tutti gli altri aspetti. Abbiamo venerdì mattina il festival della canzone siciliana che è arrivata alla quarta edizione ed è un incontro bellissimo perché i nostri ragazzi, e sono tantissime le scuole della provincia che partecipano, canteranno i canti siciliani, i canti di Rosa Balistreri nella loro lingua madre e l'entusiasmo e la partecipazione felice dei ragazzi veramente è qualcosa di commovente, è bellissimo. La serata conclusiva l'8 dicembre, come sempre, al castello di Chiara Monte con la premiazione degli elaborati in lingua siciliana, dei libri e soprattutto anche abbiamo i riconoscimenti speciali a persone che con il loro operato fanno grande la nostra Sicilia. Con orgoglio devo dire che quest'anno sono arrivati più di 500 elaborati da tutte le parti, non d'Italia, anche dall'estero e quando vedevo il timbro praticamente dall'estero era per me una gioia perché, dico, è bello che il premio Guttuso sia conosciuto ma soprattutto è bello vedere che le persone che sono fuori scrivano in lingua madre i loro sentimenti, la loro nostalgia, la loro gioia di essere siciliani.